Stanco di pagare conguagli e consumi che non hai mai fatto e di ricevere bollette incomprensibili? Scegli la serietà di Green Gas, il nuovo fornitore di gas in città che ti fa pagare solo quello che veramente consumi. Cosa aspetti? Passa a Green Gas senza nessun costo aggiuntivo e senza perdere tempo. Facciamo tutto noi! Scopri anche tu il segreto del risparmio. Scegli Green Gas. www.greengasitalia.it Ci troviamo in Via dei Gas per i 129, a Fragola. Grazie.